ariete vorreste godervi qualche piacere terreno in più ma venere opposta ne limita la disponibilità insieme ad un probabile di sapore o lontananza in amore il lavoro invece richiede impegno e decisione toro la luna amica oggi allieta l'umore e consente di distendere le tensioni state ritrovando una buona energia psicofisica adatta a recuperare il terreno perduto ultimamente buone le prospettive di lavoro ma siate prudenti gemelli giornata dai toni bassi contrasto tra emotività e aspettative un po di disarmonia che confonde ragioni e cuore ma avete ancora dalla vostra parte mercurio e venere che regalano incontri speciali e conquiste amorose cancro la sfera sentimentale adesso è quella che più accusa le dissonanze del cielo astrale se un rapporto non funziona emergono questioni che vi fanno dubitare se sia più opportuno proseguire o tagliare leone mercurio in transito nel segno stimola la mente ma spesso vi affatica con mille problemi trattative o incontri mentre venere positiva comporta il vostro edonismo la voglia di gustare il meglio di ogni situazione vergine giornata dalle sensazioni intense ma un po distorte siate eccessivamente sognatori o forse delusi da un fatto una persona uno squilibrio emotivo che dovrete assorbire con la vostra classica autoanalisi bilancia momento intrigante per le faccende di cuore ci sono risvolti passionali in una storia non si smorza l'intensità delle frequentazioni dei programmi e delle idee ma qualcosa di affatica troppo scorpione vi attende una buona giornata ricca di positività e vitalità oggi siete trascinati da una atmosfera più dolce e romantica che acquiesa l'indole ombrosa e a volte spigolosa interessanti un po scontenti un po beffati dovete mettere in conto una giornata nervosa che appesantisce il vostro spirito a volte ingenuo un passaggio che non scalfisce la sintonia con chi amate con le amicizie vere capricorno un cielo astrale di buona qualità sostiene la vostra crescita interiore materiale è un periodo di consapevolezza che si divide tra appalgamento e fatica qualche nuvola in amore siate meno rigidi acquario venere gioca un ottimo ruolo nel vostro quadro astrale e vi invita a dimenticare le asperità degli ultimi tempi e ritrovare armonia e voglia di amare i piacere e piacervi un cambiamento vi sorprenderà pesci la luna oggi transita nel segno e vi inclina ad amplificare le emozioni che navigano tra luci e ombre in uno spazio indefinito costituito da fantasie godetevi l'atmosfera ovattata di oggi domani torna la realtà buone stelle e e e e e e e e